Si forma così, linea dopo linea, incrocio dopo incrocio. Siano strade asfaltate oppure mai trovate, che si perda il controllo o si ritrovi attraverso regole. Così si crea e nel tutto si riunisce, è concesso appoggiarsi, stare ad aspettare. L'immobilità spaventa se non si lascia entrare. Così si può osservare e goder della realtà, senza poi stravolgerne più litidi contorni. E si ricrea e tutto si riunisce, si ricrea e tutto si riunisce. Riunisce e l'anima distorta, anarchica e distante si allea col suo nemico. L'ordine delle cose, unione di disordine e armonia, riunisce le estensioni in un'unica dualità. Così si può osservare e goder della realtà, senza poi stravolgerne più litidi contorni. E si ricrea e tutto si riunisce, si ricrea e tutto si riunisce. Si ricrea e tutto si riunisce, si ricrea e tutto si riunisce. Così si racconti. Grazie a tutti.